Se sei suscettibile probabilmente questo video non fa il caso tuo ed è meglio uscire, chiudere, vai da un'altra parte perché questa roba qua non è per te. Se invece non sei suscettibile al denaro e in qualche modo vuoi capire come guadagnare di più, come ottenere più risultati lavorando in maniera intelligente online, allora ascoltami bene. Allora, innanzitutto voglio mostrarti semplicemente quello che è successo negli ultimi nove giorni del mese di novembre e all'interno di infomarketingx.com, la mia azienda di formazione online. Abbiamo incassato 82.824 euro e 109.000 euro sono di revenue, quindi soldi che entreranno generati in questi primi nove giorni. Magari potresti pensare, vabbè grazie ma è un lancio oppure è un caso. No, andiamo a vedere il mese scorso che cosa è successo. Nel mese scorso, un mese assolutamente tradizionale, normalissimo per infomarketingx.com abbiamo generato 355.000 euro di cash, quindi soldi entrati già effettivamente e 735.000 euro invece di revenue. Ora, probabilmente ti starei chiedendo come sia possibile fare questi numeri. Allora, innanzitutto voglio dirti che tutta questa roba qua non è facile, ok? Non è assolutamente facile. Quello che faccio, lo faccio ormai da sette anni. Quello che ho oggi, i risultati che ho oggi sono frutto di una marea di errori, una marea di soldi persi, una marea di bucio di culo che mi sono fatto per arrivare dove sono oggi. E di competenze ne ho dovute imparare veramente tante, ma rispondendo alla domanda che molto spesso mi viene fatta, ovvero Mick, qual è quella singola cosa che può fare la differenza e che ti ha permesso di arrivare dove sei? Voglio risponderti chiaramente. La singola competenza che mi ha permesso di arrivare dove sono oggi è l'abilità di vendita. Proprio per questo, in questo video, che è un video pubblicitario, te lo dico chiaramente, quindi se vuoi rimanere oltre, benissimo, voglio mostrarti come puoi acquisire le basi della mia competenza di vendita con soli 27 euro invece che 391 euro e soprattutto avere 391 euro di bonus in regalo. Ma andiamo con ordine perché queste strategie ci hanno permesso non solo di generare milioni di euro, ma di aiutare migliaia di persone ad ottenere straordinari risultati. Grazie a quello che noi facciamo, migliaia di persone oggi hanno drasticamente migliorato la propria vita. Ma quello di cui voglio parlarti oggi è un'altra cosa. Sabbia e Beduini è un corso che ti insegna le basi per riuscire a vendere anche tu online e offline, al telefono o dal vivo, qualsiasi tipo di cosa. Anche sabbia e beduini, sì. E voglio farti vedere questo corso come è strutturato. Allora, innanzitutto, è un corso che ha un'ora di coaching privata con il tuo coach. Non è un'ora di vendita dove cerchiamo di venderti qualcosa, è un'ora di coaching, ok? Quindi quello che tu stai comprando è un programma di coaching di un'ora, abbinato a circa tre ore e mezza di contenuto massiccio sulla vendita persuasiva one to one. Quindi uno ad uno, che sia il telefono o sia dal vivo non ha alcuna importanza. Allora, questo è il corso e questa è la pagina di benvenuto. Quindi nel momento in cui acquisterai il corso e adesso ti dirò qual è la grande chicca di questo corso, perché probabilmente potresti avere accesso a tutto questo per meno di una pizza e una birretta, ok? Allora, qua abbiamo il video di benvenuto. Come puoi vedere qua ti spiego tutta la piattaforma come funziona. Questa è la nostra X-Mansion, la piattaforma proprietaria. E questi sono i moduli di sabbia e beduini. Il primo modulo si intitola Perché il 99% dei venditori falliscono. All'interno di questo modulo, in 20 minuti, ti spiego qual è il problema della maggior parte dei venditori e perché non devi cascare negli stessi identici errori, nelle stesse identiche trappole dove sono cascati loro e dove continuano a cascare anche loro, ok? Nel modulo successivo invece andremo a capire, a livello di mentalità, come dobbiamo usare il nostro cervello per riuscire a vendere di più, ok? È fondamentale essere in grado di vendere di più e quindi è importante anche sapere come influenzare la nostra mente per poter riuscire ad ottenere i risultati che vogliamo ottenere. Qui andremo a vedere nel modulo successivo come elevare il nostro status, quindi come farti percepire come un esperto, che lavoro mentale fare su te stesso e che lavoro fare sul tuo modo ovviamente di comunicare. Qui andremo a vedere le tonalità, andremo a vedere le pause, andremo a vedere come utilizzare la tua voce per riuscire a vendere in maniera eccellente. Andremo a capire anche come condurre una trattativa con successo, questo è un altro modulo dalla durata di circa, andiamo a vedere qua, di circa 26 minuti, esatto, dove ti mostro come condurre una trattativa con successo. Infine andremo a capire in un video di mezz'ora come è strutturato uno script milionario, quindi ti mostrerò proprio quali sono i nove passi del nostro script, i nove passi che compongono il nostro script milionario e qui imparerai veramente quali sono le sezioni che devi considerare, le sezioni che devi seguire maniacalmente per riuscire a vendere qualsiasi cosa. Attenzione a chiunque possa effettivamente essere in grado di acquistare il tuo prodotto e il tuo servizio. Ok? E infine ci sarà un bonus che è sostanzialmente un play roll di una trattativa di vendita che ho fatto io stesso al telefono con un mio studente, ci stavamo allenando e hai mezz'ora di play roll da poter guardare per capire anche tu come si può vendere al telefono o come si può vendere dal vivo seguendo ovviamente i nostri modelli di vendita. Perfetto, tutto questo lo troverai all'interno di Sabbia e Beduini. Sabbia e Beduini, come ti ho detto, è questo nostro nuovissimo corso che puoi portarti a casa con soli 27 euro. Ok? 27 euro invece di 391 euro è l'offerta che hai a disposizione in questo preciso momento per acquistare Sabbia e Beduini e in regalo avrai anche 391 euro di bonus in regalo. Ok? Scusami il gioco di parole però è così. Ok? Che ti piaccia o non ti piaccia. Ora, quali sono i bonus? Che cos'hai nel momento in cui ovviamente accedi anche a Sabbia e Beduini? Hai innanzitutto le trascrizioni integrali parola per parola all'interno del programma formativo. Hai l'audio mp3 quindi ogni singola lezione puoi anche ascoltarla in mp3. Hai la famosa play roll di una trattativa di vendita al telefono che ho gestito ovviamente io e hai un'ora di coaching ufficiale e privata con un coach di infomarketingx.com. Oggi in infomarketingx.com abbiamo sei coach e tu avrai ovviamente il tuo coach che ti affiancherà per un'ora e farai un'ora di coaching vera e propria. Ok? Quindi l'offerta ovviamente è attiva in questo momento, non so fino a quando sarà disponibile quindi io fossi in te, cliccherei il link da qualche parte e prenderei adesso l'opportunità di entrare all'interno di Sabbia e Beduini perché ti assicuro che potrà migliorare enormemente quello che è il tuo modo di vendere, il tuo modo di proporre, il tuo modo di posizionare i tuoi prodotti sul mercato affinché vengano acquistati dal tuo cliente ideale. Io ti ringrazio e spero vivamente di vederti all'interno di Sabbia e Beduini e voglio ricordarti una cosa, ogni nostro programma è garantito al 100% dalla nostra garanzia soddisfatto o rimborsato. Se per qualsiasi ragione non dovessi essere soddisfatto, nessun tipo di problema. Ci mandi una mail al supporto, puoi apri un ticket direttamente dalla X-Mansion, puoi direttamente aprire un ticket nella X-Mansion, ok? Puoi andare sull'Help Center direttamente qua e puoi aprire un ticket. All'interno del ticket ci dici semplicemente, ascolta, il corso mi fa schifo, rimborsatemi i miei soldi e noi lo faremo in tempo record senza farti alcuna domanda. Quindi che cosa hai da perdere? Probabilmente l'unica cosa che hai da perdere è non conoscere queste strategie che potrebbero portarti a un risultato molto più elevato rispetto a quello che hai adesso. Clicca qui il link e ci vediamo all'interno di Sabbia e Beduini. Ciao! Ciao!